Mani, occhi, orecchi, piedi e poi il cuore, da non dimenticare. Mani, occhi, orecchi, piedi e poi il cuore, da non dimenticare. I nostri occhi possiamo usare per curiosare, osservare. Gesù li usava per guardarti in fondo al cuore e capire se c'era fede e amore. Anche noi, anche noi, possiamo farlo anche noi. Mani, occhi, orecchi, piedi e poi il cuore, da non dimenticare. Mani, occhi, orecchi, orecchi, piedi e poi il cuore, da non dimenticare. I nostri orecchi possiamo usare per ascoltare musica o parole importanti.